Siamo pronti per iniziare. Do quindi il benvenuto ufficiale, mi presento anche un attimo, sono Elia Minari, coordinatore dell'Associazione Culturale Antimafia Corto Circuito, fondata nel 2009 a Reggio Emilia. L'evento formativo online di oggi ha oltre 4.800 partecipanti, collegati principalmente dalle classi delle scuole che ci stanno seguendo sia qui su Zoom sia nella diretta YouTube. Numeri davvero rilevanti. L'iniziativa di quest'oggi è promossa nell'ambito di concittadini, il percorso formativo dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, come spiegherò meglio tra poco. Nel nostro percorso come Associazione Culturale Antimafia Corto Circuito è stato fondamentale ciò che abbiamo imparato dagli ospiti di quest'oggi, il professore Antonio Nicaso e il procuratore Nicola Gratteri. Come sapete sono due professionisti di grande rilievo impegnati ormai da decenni contro la criminalità organizzata. Due figure esemplari che vi presento in estrema sintesi, anche se sono assolutamente molto noti proprio per il loro impegno e per la loro professionalità. Il procuratore Nicola Gratteri è a capo della procura di Catanzaro. In prima linea contro l'Andrangheta è uno dei magistrati più noti per il proprio impegno costante, incisivo, nel contrasto alla criminalità organizzata, in particolare all'Andrangheta. Antonio Nicaso vive sotto scorta dal 1989. Antonio Nicaso è un saggista, docente universitario, vive e lavora in Canada e Stati Uniti d'America presso diverse università. È autore di numerosi saggi di rilievo, diversi dei quali scritti insieme al procuratore Nicola Gratteri. Diversi dei libri del procuratore Gratteri e del professore Nicaso hanno avuto anche un successo internazionale. Gratteri e Nicaso hanno recentemente scritto il libro Non chiamateli eroi, pubblicato da Mondadori. Il libro fa riflettere sull'importanza dell'impegno collettivo contro le mafie attraverso esempi concreti. E questo libro credo che possa costituire anche uno spunto concreto per le attività nelle scuole sul tema della legalità e del contrasto alle mafie. Inoltre, tra le ultime pubblicazioni di Gratteri e Nicaso, ricordo il libro titolato Ossigeno illegale, come le mafie approfittano dell'emergenza Covid per radicarsi nel territorio italiano. Questo è il titolo completo della pubblicazione. E ricordo, in questa occasione, vista la platea così vasta di studentesse, di studenti, il brillante libro del professore Nicaso dedicato alle giovani generazioni, titolato La mafia spiegata ai ragazzi. Un volume utilissimo davvero per le scuole. Come vi anticipavo, l'evento formativo online di quest'oggi ha oltre 4.800 iscritti. I partecipanti ci stanno seguendo sia qui sulla piattaforma Zoom, sia in diretta su YouTube. I partecipanti sono soprattutto studenti collegati dai loro classi, insieme ai loro docenti, ma partecipano a questa iniziativa anche diversi educatori, rappresentanti di enti pubblici, istituzioni, rappresentanti di associazioni e altri cittadini. Questa iniziativa formativa, in estrema sintesi, è promossa dall'Associazione Culturale Antimafia Corrocircuiti, insieme all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di concittadini, che è il percorso di educazione alla cittadinanza attiva, che l'Assemblea Legislativa promuove ormai da anni con l'ufficio scolastico regionale. Al centro di queste attività vi sono alcuni capisaldi, come il valore dell'impegno, la pratica dell'educazione concreta alla cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile, l'esercizio della democrazia, la cultura della legalità e il contrasto alle mafie, declinato in modo più tangibile possibile. Il percorso concittadini ha generato centinaia di progetti, iniziative, momenti di confronto, seminari, attività formative, coinvolgendo nel complesso, tra tutte le iniziative, veramente tantissimi studenti, più di 150.000 studentesse e studenti dell'Emilia-Romagna, ma anche di altre regioni, in particolare del nord Italia, hanno preso parte a queste iniziative nel complesso e diverse migliaia ci stanno seguendo anche quest'oggi nelle piattaforme in cui siamo connessi. Numerosi, quindi, docenti hanno animato nel corso degli anni questo grande laboratorio di democrazia partecipata, che ha messo in primo piano il tema della conoscenza e del contrasto alle mafie. È ancora, oltretutto, possibile iscriversi, come sempre, in modo completamente gratuito, come tutte queste attività, il percorso formativo dell'anno scolastico in corso entro il 20 novembre. Colgo l'occasione per ringraziare, in estrema sintesi, però ci tengo davvero molto lo staff di concittadini, soprattutto Alessandro Criserà, oltre a Stefania Sentimenti, Carla Brezzo, Laura Bordoni, Elisa Renda. Ringrazio molto anche la Presidente dell'Assemblea Estativa, Emma Petitti, e il Direttore Generale, Leonardo Braghetti. Ringrazio davvero di cuore per la collaborazione organizzativa Alessandra Quotti ed Elisa Caroli dell'Associazione Culturale Antimafia Corto Circuito. Il loro supporto è stato fondamentale per coinvolgere una ad una così tante scuole, più di 4.800 partecipanti. Ma ora iniziamo subito questo percorso con le prime domande per i nostri ospiti per entrare nel vivo. Professore Antonio Nicaso, quali sono, secondo lei in questa occasione, ci diamo del lei, ecco, gli insegnamenti e i messaggi più importanti che si possono trarre dal libro Non chiamate gli eroi, che possono essere utili per i giovani d'oggi. Inoltre nel libro scrivete che siamo una società che ha bisogno di martiri da commemorare, spesso solo formalmente, senza però poi agire. Un concetto, credo, molto giusto e che si ripete in tante occasioni e davvero in modo purtroppo troppo ricorrente. Come si argina l'indifferenza che molti cittadini hanno verso il tema del contrasto alla criminalità organizzata e le scuole? Come possono agire in questa direzione? Grazie davvero per essere insieme a noi con anche il procuratore Nicola Gratteri, a cui poi rivolgiamo la successiva domanda. Allora, intanto buongiorno, siamo in tanti e questo è motivo di grande soddisfazione, saluto studentesse, studenti, docenti, organizzatori. E' proprio un'occasione importante per parlare di legalità, ma per ricordare anche alcuni aspetti, come citava Elia, dei contenuti nel nostro libro. L'idea di scrivere questo libro, soprattutto rivolto ai ragazzi, nasce appunto dall'esigenza di spiegare, di affrontare un tema particolare come quello delle matri, che spesso sono state sottovalutate, sono state considerate soltanto un problema di ordine pubblico. Quello che noi stiamo cercando di fare è mettere in evidenza la dimensione culturale delle mafie e quindi l'importanza di combatterle anche sul piano della cultura, all'interno delle famiglie, all'interno delle scuole, disseminando una sorta di consapevolezza, un impegno alla cittadinanza attiva e responsabile. Quando si parla di mafia, spesso si parla dei tanti martiri, delle mafie e spesso anche certa cinematografia ci ha fatto vedere i protagonisti della lotta antimafia come dei cavalieri solitari, che poi alla fine devono morire. Mi viene in mente uno sceneggiato televisivo di grande successo come La Piovra. E allora quello che noi cerchiamo di dire, di fare, è che intanto con le mafie non è possibile convivere e quindi bisogna in qualche modo isolarle anche sul piano sociale e culturale, oltre che politico, e poi cercare di coinvolgere un po' tutti, perché se ciascuno di noi riesce a fare qualcosa, alla fine possiamo fare molto nella lotta contro le mafie. Ecco, questo fondamentalmente è il messaggio che vogliamo porgere, perché spesso vediamo questi personaggi che vengono continuamente raccontati, anche se noi abbiamo cercato di raccontare anche personaggi meno conosciuti, ma li raccontiamo come se fossero degli eroi. Invece l'idea è appunto quello di ricordare, come diceva Brecht, che i paesi che hanno bisogno di eroi sono paesi purtroppo che vivono male. Noi non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di tante persone in grado di fare il proprio dovere, nel proprio piccolo, nella propria quotidianità, cercando di umanizzare il nostro impegno e non facendolo passare come qualcosa di straordinario, qualcosa di eccezionale, qualcosa che sia riconducibile solo al coraggio di pochi. Noi abbiamo bisogno del coraggio di molti, che poi è un coraggio che si declina in modo concreto, studiando nel caso degli studenti, evitando le scorciatoie, comprendendo che solo i sacrifici rendano liberi e nell'ambito di tutte le attività sociali capire che ciascuno ha un proprio compito, una propria funzione, e svolgerlo bene è già un passo importante nella lotta ad una sorta di cultura mafiosa, ad una mentalità che dura a morire. Direi che già da queste parole ci sono anche indicazioni concrete per le nostre studentesse e studenti. Solo i sacrifici rendono liberi. Frasi e parole, poi direi molto chiare, così come anche le altre affermazioni del professore Nicaso, riguardo proprio l'evitare anche le scorciatoie e esercitare appunto il nostro compito di cittadini. Dunque vorrei chiedere al procuratore Gratteri. Procuratore Gratteri, credo che sarebbe interessante proprio in questa occasione raccontare ai tanti studenti quali sono oggi le priorità nel contrasto al crimine organizzato e quali sono anche gli obiettivi raggiungibili dal punto di vista fattuale nel contrasto all'Andrangheta. Gli chiedo alla luce della sua enorme esperienza, dato che è il magistrato sicuramente più esperto in Italia del tema dell'Andrangheta, con anche un'esperienza internazionale davvero incomparabile. Prego procuratore Gratteri e benvenuto. E' ovvio che negli ultimi anni c'è stata una forte accelerazione, un forte mutamento delle mafie, le quali uccidono sempre meno perché non ne hanno bisogno, per due ordini motivi. L'obiettivo delle mafie, dell'elite delle mafie, quando io parlo di Andrangheta parlo del 2-3% di quelli che possono essere definiti andranghetisti, cioè i capi, la ricchezza e la mano dei capi, i quali hanno milioni di euro fermi e il loro obiettivo è quello di giustificare questa ricchezza. E quindi, avendo grandi disponibilità di dinaro, non hanno bisogno di uccidere, di sparare o di fare deneggiamenti. Cioè, il combinato disposto anche col fatto, col dato che oggi, negli ultimi decenni, c'è stato un forte abbassamento della morale e dell'etica, oggi un funzionario pubblico è facilmente corruttibile, è facilmente permeabile, un funzionario pubblico, anche con 5.000 euro, è in grado di tranquillamente metterla una firma dove dovrebbe metterla. Questo consente alle mafie di spaziare, avendo quindi tanti soldi e avendo a disposizione pezzi della pubblica amministrazione che sono fatti da semi-analfabeti che sono entrati nella pubblica amministrazione come Bidelli e oggi sono funzionari, dirigenti pubblici, quindi le mafie hanno un gioco molto facile per appropriarsi anche di pezzi della cosa pubblica. Quindi le mafie oggi continuano sia a vendere cocaina, ma soprattutto stanno cercando di comprare tutto ciò che è in vendita da Roma in su, tutto ciò che stanno cercando di comprare ciò che è in vendita in Europa. Quindi le nostre strategie sono quelle di seguire le loro attività economiche, ma non dimenticando mai la base criminale, non dimenticando mai il territorio calabrese dove c'è l'origine dei locali di Indrangheta, dove poi noi troviamo in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, i locali di Indrangheta, cloni di quelli che ci sono in provincia del Gio Calabrio, di Crotone o di Vibbo-Valenzia. Quindi oggi le strategie sono quelle di andare sempre più in sinergia con le forze dell'ordine che si trovano al nord o che si trovano in Europa, sinergie con le procure. Cioè considerare il sistema processuale è sostanzialmente un problema nostro, è un problema sì di garanzie, ma è anche, se noi volessimo parlare di una corsa, di una gara, cioè il mafioso si muove dalla Calabria al Veneto alla Lombardia o alle miglie Romagna come io mi muovo a Catanzaro, cioè io per indagare sulle miglie Romagna mi devo relazionare, fare riunioni con la procura di Bologna o parlare con un'altra polizia giudiziaria, cioè mentre quando io faccio indagini in Europa io vedo un ondranghetista che si muove tra Germania e Belgio e Olanda come noi ci muovemo nella società. Quando io poi, per dimostrare la penale responsabilità di questo soggetto, io mi devo rapportare con tre polizie giudiziarie diverse, con tre legislazioni diverse, col sistema giudiziario, tedesco, olandese e belga, e allora voi capite che noi rincorriamo e quindi l'obiettivo, l'aspirazione sarebbe quello di avere un codice di procedura penale o un codice penale in Europa omologo, uguale per tutti gli Stati, ma questo in teoria sarebbe una grande soluzione, un passo avanti enorme, però se noi pensiamo, consideriamo il modo di pensare che c'è nei paesi del centro Europa e del nord Europa, cioè se noi pensiamo ad esempio in Germania che il nome della privacy non è possibile mettere delle microspie in determinati posti e questi mafiosi lo sanno dove noi non possiamo mettere le microspie in Germania e allora noi andando a parlare di omologazione dei codici noi rischiamo di perdere 150 anni di antimafia e di legislazione antimafia se noi andiamo ad omologarci a un sistema europeo, perché la base sarebbe partire dal sistema giudiziario italiano, però siccome noi come Italia siamo deboli in Europa, non abbiamo la forza per imporci in Europa, anche se oggi c'è il Presidente del Consiglio Draghi, ma io ancora non ho visto l'Italia essere dominante in Europa, perché ovviamente noi siamo tutti bravi ad elogiarci, ma se io le dicessi, se io le dico che in Olanda c'è Eurojust, Europol e Interpol e nessuna di queste agenzie internazionali è in Italia, questo fa capire il poco peso specifico che l'Italia ha sul piano europeo. Se lei ricorda, quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa e ha dovuto cedere all'agenzia del farmaco, l'Italia ha messo a disposizione il Palazzo Pirelli a Milano, che dista 650 metri dalla stazione di Milano centrale, quindi un posto strategico centrale. Nemmeno ci hanno risposto, hanno aspettato che l'Olanda costruisse un palazzo di acciaio e vetro per ricevere l'agenzia del farmaco. Quindi pensi che di recente è stata istituita un'agenzia per contrastare l'Andrangheta, un'agenzia alla quale hanno aderito 30 paesi del mondo. Allora, in Andrangheta non c'è dubbio che l'Andrangheta sia nata in Calabria e non c'è dubbio quindi che l'Andrangheta è una mafia italiana. Bene, quindi naturalmente l'agenzia dovrebbe avere sede in Italia. Non dico in Calabria, a Reggio Calabria o a Catanzaro, ma quantomeno a Roma. Nemmeno questo, l'agenzia sa dove si trova, a Lione in Francia. Questo fa capire il peso piuma che noi Italia siamo sul panorama internazionale. Il resto sono chiacchiere. Direi parole molto nette e chiare. Colgo l'occasione, visto che comunque viene aperto il tema sicuramente di grande attualità del contesto europeo. Per quanto riguarda ad esempio la procura europea, the European Public Prosecutor's Office, che si occupa per il momento solo di alcuni reati, quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ecco, questa può essere, se anche ampliata, una soluzione con uffici anche operativi nei diversi Stati membri, come è previsto? In questo momento, dal punto di vista sostanziale e fattuale, le posso dire che rispetto ai costi posso definire la procura europea quasi inutile. Ci sono in Italia 20 sostituti procuratori europei che hanno rapporti diretti col procuratore europeo, che è una collega, mi pare, rumena o bulgara. E allora mi devono spiegare ad oggi, siccome il limite è di 10 milioni di euro, mi devono spiegare quanti processi ci sono in questo momento in Italia, quanti indagini ci sono in questo momento in Italia per questo tipo di truffe. Lei pensi che a Catanzaro ci sono due posti di procuratore europeo che hanno competenza per la Calabria e per la Basilicata e nessuno ha fatto domanda. A Bari nessuno ha fatto domanda. Per la Basilicata è un pezzo ancora più a nord, di vivare l'Abruzzo. In Sicilia ci sono due, a Milano ci sono quattro. Ora, noi dobbiamo pagare cinque assistenti, due ufficiali di polizia giudiziaria, che ha spese a carico dell'Italia, più questi due magistrati, che dal punto di vista eministrativo gravano sul bilancio del Ministero della Giustizia, dal punto di vista procedurale dipendono esclusivamente dal procuratore europeo. Ma questo mi sta bene, non è questo il problema. Il problema è che per questa tipologia di reati non ha senso una procurazione europea. costruire un'ambara da danni così per poi interessarsi di truffe a danni della comunità europea. E perché il traffico internazionale e il riciclaggio in Europa non interessa? Sarebbe stato un argomento da procuratore europeo al riciclaggio. E perché? Ma questi stiamo parlando di discorsi teorici, perché lei sa che in Germania non c'è un limite al contante. lei sa che se io vado in Germania con due valigie di euro, entro in una concessionaria e mi compro un SUV tedesco da 80.000 euro, nessuno mi chiederà quegli 80.000 euro dove li ho presi. Allora, se noi siamo ancora a questo livello, nel 2021, noi ancora non abbiamo un limite al contante, noi ancora l'Europa è così permeabile, ancora più del burro. e non faccio un esempio a caso alla Germania, perché la Germania, il paese dopo l'Italia, ha più alta densità mafiosa, perché essendo il paese più ricco, la Germania, è il paese più frequentato dalle mafie, perché le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e ricchezza, e la ricchezza si gestisce nei posti già ricchi, sia per nascondere la ricchezza, sia per reinvestirla. E quindi, se così stanno le cose, allora noi ancora siamo quasi all'anno zero, cioè se noi ancora siamo in Europa, a Bruxelles o in altre sedi internazionali, dove ogni tanto masochisticamente mi invitano, ci invitano con il caso, perché dico masochisticamente, perché ovviamente io ogni volta che ce l'ho di fronte, sono feroci, e allora non è concepibile, non è possibile che noi ancora non abbiamo un limite contante, noi ancora in nome delle pravesi non posso mettere micro spie, non posso mettere delle, non fare intercettazioni invasive in nome delle pravesi, ma le mafie, noi stiamo facendo solo favore alle mafie, cioè se io sono una persona per bene, una persona per bene, non ho nulla da temere, se la polizia giudiziaria indaga su di me, vuol dire che io come minimo sono un borderline, come minimo sono un collettore di mazzette, come minimo sono un soggetto, sono un riciclatore, anche se non sono battezzato in Landrang, poi in Cosa Nostra e la Comorra, sono un soggetto, sono un professionista funzionale, al sistema funzionale del pacchetto mafia. Direi parole molto chiare. Pongo l'ultima domanda, poi passiamo alle domande delle studentesse e degli studenti. Pongo quindi questa domanda al professore Nicaso, intanto appunto chi si è prenotato per le varie domande, ma anche altri, possono quindi tra pochissimo porre direttamente le loro domande al procuratore Nicola Gratteri e al professore Antonio Nicaso. La mia ultima domanda per il professore Antonio Nicaso invece è, lei ora lavora in Canada e Stati Uniti presso prestigiose università, è originario del comune di Caulonia in Calabria, da giovane, quando aveva l'età di molti dei ragazzi che quest'oggi ci stanno seguendo. Cosa ha significato occuparsi di Ndrangheta, anche poi negli anni successivi? Cosa ha significato occuparsi di Ndrangheta in Calabria, nella sua esperienza personale? È stato un momento formativo. Io ripeto spesso che la prima volta che ho sentito parlare di Ndrangheta, avevo sei anni e mezzo, quando appunto questa organizzazione criminale ha ucciso il papà di un mio compagno di scuola e in quell'occasione molti di noi siamo stati appunto chiamati a riflettere e quindi a scegliere da che parte stare, se stare inconsapevolmente dalla parte dell'indifferenza o stare alla parte della conoscenza. Dico spesso inconsciamente perché quando molti di noi sono andati a chiedere ai familiari le ragioni di quell'omicidio, alcuni genitori hanno avuto la forza di spiegare qualcosa, altri meno, limitandosi a dire che erano argomenti di cui non dovevamo interessarci. E forse questo aspetto mi ha incuriosito, mi ha portato a fare delle scelte che all'epoca erano delle scelte così naturali come quella appunto di chiedere, di voler capire e poi sono state delle scelte che mi hanno portato per esempio a raccogliere articoli di giornale su un quadernone, cercare di informarmi, capire, leggere e cercare di dare una spiegazione a cose che mi sembravano incredibili, come quello appunto di una bomba che scoppiava davanti ad una serranda di una concessionaria d'auto oppure tante altre piccole cose o tante altre grandi cose come può essere appunto un omicidio. Ecco, queste cose mi hanno innanzitutto incuriosito e poi mi hanno portato a farmi delle domande, a cercare di capire, a cercare di dare una spiegazione a quello che succedeva attorno a me. Ho avuto la fortuna di coronare un sogno che accarazzavo anche da bambino e cioè quello di cominciare a raccontare, a scrivere, a fare giornalista per un quotidiano siciliano molto diffuso in Calabria e questo in un certo senso mi ha portato ad acquisire delle conoscenze ma soprattutto a capire il contesto in cui si muovevano certi personaggi che avevano tante cose in comune anche con me perché giocavamo assieme a calcio frequentavamo la stessa parrocchia frequentavamo gli stessi luoghi pur avendo poi deciso di intraprendere strade diverse ed è forse questo aspetto che è l'aspetto interessante e cioè cercare di capire le ragioni di una scelta, il condizionamento della famiglia, il mancato insegnamento anche all'interno delle famiglie. Io sono nato in una famiglia molto modesta, ho perso il padre quando avevo quattro anni e mezzo, mia madre mi ha insegnato quelli che erano i suoi valori, i suoi principi che erano appunto quelli della tolleranza, del rispetto, dell'onestà e appunto quello del sacrificio che poi ti porta a fare delle conquiste sono delle conquiste piccole o grandi che ti gratificano perché sono frutto del tuo impegno non sono frutto di una mentalità che era diffusa non soltanto al sud ma anche al nord poi io pensavo fosse soltanto un problema italiano e ho scoperto che invece è un problema internazionale cioè l'idea di conoscere qualcuno al sud dicevano a chi appartieni perché l'appartenenza era fondamentale la famiglia, lo stato sociale ma poi ho capito che questo tipo di relazioni non sono caratteristiche soltanto di un determinato contesto geografico anche in Canada, anche negli Stati Uniti paesi che ho imparato a conoscere spesso c'è gente che riesce a trovare la scorciatoia gente che riesce a trovare l'amico dell'amico che lo aiuta a fare questo o aiuta a fare quest'altro ecco, io ho sempre pensato e ho sempre capito che queste relazioni tossiche sono da evitare perché ti condizionano perché ti legano e quindi l'idea dell'appartenenza mi è sempre stata estranea come concetto più volte per esempio mi è stato chiesto di entrare in alcune organizzazioni, organismi e io ho sempre rifiutato non per via delle finalità di queste estraneazioni ma per l'idea di non legarmi di essere libero di poter dire quello che penso di poter agire facendo piccole cose ma frutto soltanto del mio lavoro del mio impegno del mio sacrificio ecco, questo è uno dei concetti che noi cerchiamo sempre di spiegare sia io che Nicola Gratteri cioè l'idea del sacrificio che rende liberi ed ecco perché al di là di tutti gli aspetti che sono stati toccati e che sono importanti l'idea delle asimmetrie normative l'idea che le mafie vanno poi a posizionarsi dove incontrano meno resistenze dove è più facile delinquere questo lo vediamo e presuppone una mancanza di volontà politica nella globalizzazione dell'azione di contrasto però secondo me c'è un aspetto ancora più importante che quello del nostro contributo perché i ragazzi spesso ci chiedono ma che cosa possiamo fare ed è questo secondo me la domanda o la madre di tutte le domande perché ci sono aspetti che a 15 a 16 anni non è facile affrontare sono problematiche che riguardano competenze specifiche però c'è qualcosa che tutti possiamo fare ed è quello del nostro impegno quotidiano quello della capacità di costruire il bene comune quello della capacità di essere solidali di essere tolleranti di cercare di creare un contesto più vivibile e questo lo possiamo fare con piccole scelte quotidiane all'interno delle nostre famiglie all'interno delle nostre scuole decidendo di agire di fare qualcosa anche per gli altri e non solo per se stessi per creare appunto questo concetto che secondo me è fondamentale che è appunto quello del bene comune spesso noi non ci rendiamo conto però bisognerebbe partire e concludo da una semplice riflessione ecco quello che non è mio di chi è è di tutti o di nessuno ecco se noi riusciamo a capire che quello che non è mio è di tutti e quello è un invito al rispetto alla tolleranza di quello che non è mio perché è di tutti se invece quello che è mio quello che non è mio è di nessuno allora io non ho nessun tipo di responsabilità posso distruggere tutto quello che vedo attorno a me perché non è mio e allora partendo anche da questa piccola riflessione che sembra insignificante ma invece è di fondamentale importanza noi possiamo veramente capire qualcosa del nostro essere è qualcosa del nostro divenire perché abbiamo già qualcosa da fare ecco il rispetto di quello che non è mio perché è di tutti direi spunti molto utili anche per le scuole per ad esempio i percorsi di educazione civica e per attività anche formative connesse per andare quindi per quelle che sono le domande che vengono rivolte da parte delle numerose classi abbiamo in collegamento la classe quarta E inizierei da loro del liceo Morandi di Finale Emilia in provincia di Modena che quest'anno con la consulenza pedagogica della fantastica dottoressa Rosa Fra Martino ha adottato il libro Non chiamateli eroi del procuratore Nicola Grattieri del professore Nicaso da alcune storie tra l'altro del libro prenderà vita un laboratorio di scrittura creativa e anche la creazione di un testo narrativo originale partendo proprio dal libro Non chiamateli eroi del procuratore Grattieri del professore Nicaso quindi do volentieri la parola alla classe quarta E che è con la professoressa Maria Stella Zoboli della scuola quindi Morandi di finale Emilia prego Buongiorno mi chiamo Giulia domanda per il magistrato Grattieri per quale motivo sono più conosciute e raccontate le azioni antimafia condotte in Sicilia rispetto alle azioni antimafia della Calabria Ma la Sicilia ha avuto da sempre diciamo un ruolo importante sia nella mafia sia nell'antimafia nel senso che la Sicilia c'è Cosa Nostra ha avuto rapporti antichi con il potere politico e in particolare con quelli di fama nazionale e poi quindi c'è stata una maggiore visibilità da questo punto di vista poi è stata molto bene raccontata sul piano mediatico sul piano della narrazione ci sono stati in Sicilia grandi struttori come l'anodo Sciascia e ci sono stati anche la cinematografia si è dedicata molto a Cosa Nostra anche perché Cosa Nostra è stata molto ben raccontata nella parte di mafia italiana negli Stati Uniti in particolare a Brooklyn in particolare in quel contesto anche di raccontato anche di fine ottocento inizio novecento in Sicilia poi c'è stato un processo di accelerazione sia della mafia che dell'antimafia nel senso che la stagione dello stragismo di Rina con le stragi ha portato l'attenzione ha acceso i fari di tutti gli organi di formazione del mondo e quindi in gioco forza la Cosa Nostra è stata narrata raccontata da tutti gli organi di formazione internazionali l'Andrangheta invece ha avuto una una filosofia criminale diversa rispetto a Cosa Nostra cioè io penso che il periodo più negativo più buio di Cosa Nostra è stata proprio la stagione delle stragi nel senso che le proprie stragi sono state l'inizio della fine di quella Cosa Nostra l'inizio della fine di quella strategia del muro contro il muro mentre l'Andrangheta ha sempre cercato accordi con uno di restrizioni l'Andrangheta ha sempre cercato ha avuto sempre l'idea che comunque o in appello o in Cassazione ci sarebbe stato uno sconto e allora ha sempre cercato attraverso il mondo delle professioni attraverso qualche investigatore o qualche magistrato infedele ha sempre cercato di aggiustare la loro posizione sul piano processuale ed è stata una strategia vincente perché per decenni l'Andrangheta è stata sottovalutata come una mafia di pastori come una mafia al massimo di persone quando poi col senno appunto col senno del poi vediamo invece l'Andrangheta che già nel 70 aveva rapporti con la mazzone deviata quindi col mondo delle professioni quindi col mondo della politica e quando qualche investigatore cominciava a scriverlo a accennarlo non sempre si è vista una magistratura pronta una magistratura coraggiosa in grado di affrontare l'approccio di questa visione del rapporto Andrangheta politica del rapporto Andrangheta massone deviata Andrangheta o mondo delle professioni e tutto questo ha questa sottovalutazione dell'Andrangheta è ovvio che non era poi di interesse narrativo di interesse mediatico come invece lo stato Cosa Nostra Benissimo poi chiederei colgo l'occasione siccome stanno arrivando diverse domande da parte di insegnanti che chiedono proprio anche sia il procuratore Grettiri sia il professor Nicaso cosa concretamente secondo loro può fare la scuola nel proprio agire per promuovere comunque una cultura della legalità e anche come funzione sociale formativa dal loro punto di vista è una domanda che viene da parte di tantissimi insegnanti avete già lanciato direi degli spunti concreti anche nelle precedenti risposte se volete a questo proposito ecco aggiungere qualcosa sarebbe ovviamente molto gradito noi abbiamo già in parte risposto però io sono fondamentalmente convinto che la scuola abbia un ruolo importante nella formazione dei giovani è chiaro che non deve essere un ruolo di supplenza la famiglia deve anche contribuire al processo formativo ecco però la scuola deve soffermarsi molto soprattutto sull'aspetto appunto di creare una sorta di coscienza critica cercare di stimolare i giovani a farsi delle domande a chiedere e ad esigere delle risposte a darsi delle risposte ai tanti interrogativi della vita perché chi riesce a a farsi domande chi riesce a creare una sorta di coscienza critica a più facilità di opporsi all'omologazione all'idea di 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 doversi in qualche modo appiattire su certi temi e quindi seguire le masse non avere la capacità di fare delle scelte ecco il ragazzo che acquisisce consapevolezza che acquisisce conoscenza che sa che riesce a capire qualsiasi tipo di tematica non soltanto quella mafiosa ma attraverso la conoscenza riesce appunto ad acquisire quella coscienza critica che lo porta a farsi delle domande ecco quel tipo di mentalità è una mentalità che è contraria alla cultura mafiosa i mafiosi hanno bisogno di soldatini hanno bisogno di gente appiattita gente che non non abbia quella capacità di farsi delle domande perché devo fare questo e perché devo andare da questa parte e perché devo accettare questo tipo di situazione ecco chi riesce a farsi delle domande e poi a porsi delle risposte perché uno può fare una domanda che può anche scegliere di aderire alla mafia o scegliere di aderire ad una sorta di cultura mafiosa questo non può essere escluso però l'idea già di farsi delle domande e di avere la possibilità poi di dare delle risposte ecco questo è importantissimo perché si ha la possibilità di fare poi delle scelte se io so che questo problema ha questi risvolti io alla fine scelgo mi conviene non mi conviene è opportuno farlo o opportuno non farlo ecco questo secondo me deve dare la scuola al di là appunto di alcune conoscenze che poi sono specifiche relative alle materie insegnate però la cosa più importante è uscire dalla scuola con la capacità critica con la coscienza critica di chi si interroga di chi attraverso una sorta di riflessione alla fine è capace di fare delle scelte che sono delle scelte però consapevoli e dire io voglio stare da questa parte piuttosto da quest'altra voglio fare il medico piuttosto che quest'altra cosa ma voglio fare il medico in questo modo piuttosto che in quest'altro ecco la conoscenza è fondamentale ma soprattutto la coscienza critica le scuole devono investire molto su questo appunto aspetto quello della formazione di una coscienza critica è l'unico modo poi per poter incidere e poter fare la differenza chi invece non ha coscienza critica chi non si fa domande chi non è capace di scegliere alla fine segue la moda segue il branco e finisce per diventare un numero insignificante benissimo faccio una sintesi anche tra varie domande vari spunti che arrivano chiedendo poi le varie scuole che intervengono successivamente di selezionare semmai una domanda che ritengono particolarmente importante per far intervenire anche più scuole diverse nel frattempo chiedo al procuratore Nicola Gratteri se lei potesse parlare con Nicola Gratteri da bambino cosa gli direbbe quali sogni aveva Gratteri da giovane studente e quali timori ma ovviamente noi abbiamo un'infanzia una franciullezza simile con il professor Nicaso nel senso che siamo nati in paesi piccoli dove una dove c'era un'economia prevalentemente rurale in zone povere depresse i sogni erano quelli e pronto? si si sente e ovviamente vivevamo con con poco cioè noi eravamo abituati i pantaloni miei passavano al fratello più piccolo i pantaloni del mio fratello più grande passavano a me quindi si stava attento era questo il nostro tenore di vita andavamo a scuola con l'autostop e ovviamente noi non sopportavamo i figli dei mafiosi davanti alla scuola che si comportavano da mafiosetti che facevano i prepotenti come oggi definiamo i giovani bulli davanti alle scuole e quindi il sogno era quello di cambiare le cose di non vedere di non vedere più quella realtà davanti alle scuole cioè allora non è che c'era la possibilità non avevamo la cultura la conoscenza per fare diciamo ragionamenti complessi però in base all'età all'età scolare l'idea che non sopportavamo non vedevamo questi figli di di capi mafia questi ce l'avevamo ce l'avevamo in chiaro quindi da grande pensavo di poter fare che so il carabinieri di poliziotto comunque qualcosa che serviva a frenare a contrastare questa 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 delinquenza che loro non sapevamo fosse così sofisticata direi direi le vostre testimonianze siano davvero insostituibili sicuramente di grande impatto per le nostre scuole ma anche per gli educatori le istituzioni i rappresentanti anche degli enti pubblici che ci stanno seguendo e farei porre le prossime domande al liceo Minghetti di Bologna e all'istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto e quindi darei a loro la parola per porre una domanda a testa per ognuna delle due scuole prego diamo la parola quindi alla classe della professoressa Maurizzi di San Giovanni in Persiceto provincia di Bologna prego potete parlare buongiorno a tutti sono Matteo Cotti istituto San Giovanni in Persiceto Archimede vado a fare una domanda da Gratteri Nicola Gratteri quale nuova legge proporrebbe contro la lotta alla criminalità organizzata la più utile ma non è che ci sia non è che ci sia una sola cosa da modificare cioè il contrasto alle mafie comunque il contrasto a tutte le pogie di tutte le tipologie di reato necessita di un concorso di modifiche non solo del codice penale del codice del codice penale dell'ordenamento potenziario della geografia giudiziaria cioè per far funzionare il sistema giudiziario e quindi vuol dire per contrastare le mafie è necessario che ci sia contestualmente la volontà la libertà la forza di fare più modifiche a tutto l'impianto quindi non basta modificare il codice bisogna anche attrezzare gli uffici giudiziari bisogna anche ridistribuire le risorse della geografia giudiziaria cioè capire dove chiudere i tribunali o dove rafforzarli potenziare dare maggiore potere senza abbassare il livello di garanzia dell'indicato e del diputato cioè comunque fare tutte quelle riforme per far sì che chi non ha morale chi non ha etica quantomeno pensa che non è conveniente l'inquisto tra l'altro il procuratore Gratteri aveva fatto delle proposte molto chiare ho ancora qui il testo stampato che mi aveva dato alcuni anni fa delle proposte ormai è superato cioè nel senso che andrebbe aggiornata avrebbero fatte tante altre cose nuove però era una base era una cosa esatto che fosse diciamo anche ascoltato ovviamente con gli aggiornamenti opportuni sarebbe assolutamente incisivo e quindi insomma mi permetto nel mio piccolo di rilanciarlo diamo la parola al liceo Minghetti di Bologna allora buongiorno sono Anna e le vorremmo chiedere che cosa comporta la vita sottoscorta e come lei ha vissuto questa condizione prego procuratore sì ma comporta una continua attenzione un continuo stress un continuo non stare tranquillo cioè discutere qualsiasi movimento affidarsi alla scorta affidarsi alla polizia per essere sicuri di poter continuare a lavorare cioè ci sono dei momenti in cui si sente di più la paura momenti in cui si sente di meno momenti in cui si sente più sovraesposto meno sovraesposto e quindi le forze dell'ordine quindi il comitato provinciale per l'ordine sicurezza pubblica modula grada in genere purtroppo a noi aumenta il livello di sicurezza mio sono sempre più in un grande fratello sono sempre più blindato però non posso fare altro che andare avanti e cercare di dare il massimo di me stesso per cercare di arginare e per essere coerenti con quello che è il mio ruolo e la mia funzione c'è una domanda che spesso viene proposta e su cui credo che il procuratore Gratteri possa dare una risposta anche molto chiara che è quella della legalizzazione delle droghe leggere tra l'altro un tema che è di grande attualità e c'è appunto una studentessa che chiede se ritiene che queste iniziative possano togliere ricavi alle mafie ecco credo che una risposta e un chiarimento su questo del procuratore Gratteri sapendo anche da tempo da anni come la pensa credo che possa essere di grande anche spunto e riflessione per la nostra comunità di studentesse e studenti ma intanto io penso che la droga se fa male dal punto di vista fisico se è un problema sanitario mi pare che è preeminente il problema sanitario rispetto agli eventuali mancati guadagni da parte delle mafie cioè se noi legalizziamo le droghe allora andiamo per ordine vediamo cosa dicono chi è a favore della legalizzazione delle droghe cosiddette di genere intanto dobbiamo spiegare che dal punto di vista scientifico non esiste più la droga leggera o la droga pesante perché oggi noi non ci troviamo ad avere una marihuana come quella dei figli dei fiori degli del 68 noi oggi abbiamo la marihuana che è modificata geneticamente per resistere agli avvenenamenti e ha un principio attivo altissimo anche del 65% quindi parlare di droga leggere davanti a un THC così elevato dal punto di vista scientifico non è corretto non è esatto e allora si dice se noi legalizziamo le droghe leggere allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata ma il disegno di legge che riguarda gli stupefacenti cosa prevede il disegno di legge prevede che chiunque ha compiuto 18 anni ed è tossicodipendente con un certificato medico che attesta la sua tossicodipendenza entra in una farmacia e compra un grammo di marijuana secondo gli studi sempre di chi propone questa legge il costo si aggirerebbe intorno ai 12 euro al grammo allora intanto io dico se la droga la può comprare solo chi ha 18 anni in farmacia e allora come possiamo dire che allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata dalle mafie se già 11 anni già nelle scuole medici si droga e quindi chi usa marijuana o hashish da 11 anni e 17 anni 11 mesi e 29 giorni dove la compra questa marijuana per continuare a comprare che è metà organizzata ma poi se al mercato nero la marijuana costa 5 euro al grammo mi spiegate perché dovrei andare a comprare in farmacia 12 euro al grammo quindi è già fuori mercato questa già è un discorso di soldi fuori mercato poi si dice se noi legalizziamo marijuana e hashish impoveriamo le mafie sì ma le impoveriamo di quanto se il guadagno delle mafie è del 5% rispetto al guadagno della cocaina perché mentre un grammo di marijuana costa 4-5 euro un grammo di cocaina costa 50 euro e l'80% dei tossicodipendenti in Europa sono cocainomeni quindi quale sarebbe il mancato guadagno se noi legalizziamo marijuana e hashish poi cos'altro si dice se noi legalizziamo le droghe la polizia giudiziaria anziché andare presso a a trafficanti di marijuana a venditori di marijuana e di hashish potrebbero fare cose più serie risposta mia se un'organizzazione criminale controlla una piazza di spaccio chi vende droga in una piazza non vende solo marijuana e hashish si comporta come un negozio di genio alimentare in un negozio di genio alimentare si vende pane pasta sale olio aceto se io sono capo mafia e vendo droga vendo togliamo marijuana e hashish mi rimane eroina cocaina ed ecstasy quindi l'organizzazione continua a stare su quella piazza e quindi le voze dell'ordine non se ne possono andare da quella piazza perché non possiamo consentire poi a quel punto di vendere solo si legalizza la marijuana e non eroina cocaina ed ecstasy anche se vi devo dire e non è una battuta che un anno e mezzo fa un parlamentare della Repubblica italiana in una trasmissione televisiva mi ha detto che lui è favorevole a legalizzare la cocaina sarebbe l'unico stato pensi che nemmeno in Colombia è possibile la legalizzata quindi in Italia noi secondo questo parlamentare della Repubblica italiana dovremmo legalizzare la cocaina la cocaina allora quindi questo dal punto di la prima fase della risposta la parte che più mi interessa è che forse i ragazzi non sanno che l'uso sistematico di marijuana porta ad una riduzione della corteccia celebrare porta ad una reazione e che la parte ti chiamo io tra poco porta ad una reazione della corteccia cerebrale quindi che è la parte della memoria del cervello quindi noi abbiamo che l'uso sistematico di marijuana da parte dei ragazzi incide sulla sul cervello incide sulla memoria del cervello e da adulti ci sono studi scientifici di università serissime anche soprattutto americane che fanno la correlazione poi con la schizofrenia da adulti e quindi se io già so che scientificamente l'uso sistematico della marijuana porta a disturbi di natura psichiatrica nell'uso della marijuana mi spiegate perché io dovrei legalizzare un qualcosa che so che già oggi fa male perché altrimenti non mi chiamano progressista altrimenti non sono un evoluto ma io dico camminiamo con i piedi per terra e cominciamo a pensare di più alla salute e al futuro dei ragazzi se vogliamo se li vogliamo bene non facciamone una bandiera ideologica di di essere di progressismo non è il progressismo è un'altra cosa non è non è la regretazione della droga chiaro direi come concetto ecco e ora quindi proseguiamo con ulteriori domande che potete intervenire direttamente dalle classi appunto attivando il microfono e quindi chi vuole per le prossime anche domande ecco perché preferiamo rispetto a quelle arrivate diciamo in chat che siano rivolte direttamente col microfono quindi potete farvi avanti liberamente anche con con attivando appunto il microfono dalla classe prego buongiorno la mentalità mafiosa è diffusa anche tra la gente ci sono atteggiamenti quotidiani con pensieri mafiosi nei confronti di chi non può difendersi come mai in Italia è così difficile togliere la mentalità mafiosa e come si può combattere e che ruolo possono avere le istituzioni grazie la scuola Elsa Morante di Sassuolo raccogliamo appunto questa domanda a cui darei la parola innanzitutto al professore Nicaso e poi se ci sono altre domande potete appunto segnalarmelo anche in chat in modo da farvi poi intervenire prego professore Nicaso bisogna dire che le mafie sono riuscite a radicarsi sia al sud che al nord grazie alla legittimazione sociale economica e politica di cui hanno goduto nel tempo e questo è un aspetto che deve farci riflettere perché nessun potere riesce a fermarsi solo ed esclusivamente con la forza come ci spiegano alcuni importanti filosofi francesi ogni potere ha bisogno di un apparato simbolico ogni potere ha bisogno di una sorta di consenso sociale per affermarsi e quindi la mentalità mafiosa è un grande terreno di cultura anche perché le mafie come dicevo si sono affermate soprattutto al nord grazie a imprenditori e politici che hanno agito secondo logiche di convenienza ecco bisognerebbe riflettere sulla definizione di convenienza o di questa sorta di reciprocità funzionale una mano lava l'altra diceva Tacito e quindi questo è un aspetto che ci fa capire molto della mentalità mafiosa cioè se io posso minimizzare i costi di un lavoro utilizzando per esempio mano d'opera a basso costo se io posso utilizzare un'impresa per un subappalto che mi garantisce un determinato lavoro con un ribasso del 50% ecco sono delle valutazioni che io posso fare tenendo conto di due cose cioè del risparmio della qualità se la qualità non è un parametro importante punto sul risparmio e quindi accetto qualsiasi tipo di compromesso pur di minimizzare i costi e di massimizzare il profitto ecco la mentalità mafiosa sta proprio in questo tipo di atteggiamento cioè nella predisposizione con cui uomini e donne che sono estranei a logiche associative riescono ad esprimere e a garantire quindi questo aspetto deve essere tenuto in grande considerazione perché se noi immaginiamo le mafie come degli eserciti di occupazione che si muovono per andare a conquistare dei terreni che sono naturalmente estrani a presenze mafiose sbagliamo tutto non riusciremo mai a comprendere la capacità espansiva delle mafie ecco le mafie per affermarsi hanno bisogno soprattutto di relazioni e queste relazioni li trovano in uomini e donne che agiscono secondo logiche di convenienza ecco la mentalità mafiosa è difficile da combattere intanto perché non può essere ascrivibile ad un determinato contesto territoriale perché se noi pensassimo che le mafie sono il frutto di una mentalità mafiosa tipicamente di un territorio allora raggiungeremo subito due obiettivi uno quello di localizzare il problema due quello di escludere l'esportabilità del modello mafioso perché se è il frutto della mentalità di un territorio le mafie restano al sud dove li abbiamo sempre immaginate se invece non sono il frutto di una mentalità di un territorio ma appunto di una grande capacità relazionale che li porta a trovare sponde anche lontano dai territori d'origine allora il problema diventa più complesso perché la mentalità mafiosa non è riconducibile ad un territorio ma la possiamo trovare in Emilia Romagna in Emilia Romagna il processo Emilia ci ha spiegato tante cose ci ha spiegato come il clan grande Aracri è riuscito ad affermarsi non solo con le bombe con le minacce con l'intimidazione ma anche appunto con l'aiuto di professionisti di imprenditori che hanno legittimato la presenza mafiosa sul territorio e quindi vedete non è un problema del sud è un problema di una mentalità che non conosce confini ed allora come la combattiamo la mentalità mafiosa creando una mentalità non mafiosa cioè cercando di creare contesti in cui si muovono persone che rifiutano le logiche del compromesso della scorciatoia della convenienza ed ecco appunto l'importanza di crescere in determinato modo piuttosto che un altro di abituarsi a fare delle scelte di abituarsi a fare delle domande di abituarsi a capire il problema studiandolo e allora vedete quando si parla di territorio si parla anche della vostra responsabilità di tenervi informati di leggere i giornali di capire quello che succede perché vedete se noi ci estraniamo pensando che il problema sia sempre di pertinenza degli adulti diamo spazio a chi probabilmente non ha interesse a governare bene i territori e noi invece dobbiamo trasformare il nostro senso civico la nostra rabbia anche in progetto politico che non significa necessariamente candidarsi significa informarsi chiedere stimolare fungolare i politici incontrarli organizzare gli eventi nelle vostre scuole voi avete dei deputati dei consiglieri dei sindaci invitateli a delle iniziative e fate loro delle domande per cercare di capire come risolvere i problemi che vi stanno più a cuore e come difendere il territorio che è di tutti e quindi praticamente anche vostro chiarissimo ad esempio chiedendo qual è l'impegno concreto su questi temi come il contrasto al crimine organizzato proprio per collegarci alle riflessioni molto interessanti del professore Nicaso lanciamo alcuni sondaggi ai quali potete rispondere tranne gli studenti in didattica a distanza ma tutti gli altri possono rispondere collettivamente per ciascuna classe quindi lanciamo la prima domanda che è questo sondaggio che ecco ora è comparso su tutti gli schermi ecco e quindi chi visualizza la domanda ecco chiediamo quindi di rispondere ecco alle varie domande prima domanda quindi le mafie sono presenti anche nel nord Italia con alcune opzioni diamo alcuni secondi per rispondere poi andiamo con la seconda domanda proprio per assaggiare nella parte terminale di questa iniziativa quindi le vostre risposte e intanto così vediamo anche in questa inquadratura generale le varie anche alcune delle tantissime classi di studenti collegate ecco delle veramente centinaia di classi per migliaia di partecipanti come sapete 4.800 in totale le studentesse e gli studenti che ci stanno seguendo dalle diverse scuole di cui ne vediamo solo diciamo un campione rappresentativo di tutti gli iscritti e i partecipanti effettivi che appunto mi vengono confermati dallo staff organizzativo passiamo alla seconda domanda per voi seconda domanda quindi chiudiamo questa domanda apriamo la successiva domanda ecco qui nel vostro comune di residenza si sono verificati i fatti connessi alle mafie e i nostri partecipanti sappiamo essere principalmente dell'Emilia Romagna ma anche di altre regioni tra l'altro l'Emilia Romagna che proprio nel processo Emilia ad esempio ha permesso la regione la costruzione dell'aula bunker dove si è celebrato il maxiprocesso Emilia e che attraverso la legge regionale 18 del 2016 il cosiddetto testo unico legalità promuove delle iniziative concrete per il contrasto al crimine organizzato quindi nel vostro comune di residenza si sono verificati i fatti connessi alle mafie e questo appunto è particolarmente interessante proprio per il fatto che ci riferiamo a partecipanti quasi tutti di scuole del nord Italia e nello specifico dell'Emilia Romagna quindi sarà molto interessante poi vedere i risultati che mi compaiono in diretta in cui vedo già che tantissimi dicono sì a volte e addirittura il 28% sì spesso sì a volte il 47% andiamo alla terza domanda quindi chiudiamo questa domanda apriamo la terza domanda per i nostri partecipanti le mafie secondo voi provocano danni nel nord Italia l'opzione 1 sì ma provocano più danni nel sud Italia opzione 2 sì sono molto pericolose indipendentemente dalla zona opzione 3 no nel nord Italia portano ricchezza perché investono denaro e poi c'è la quarta opzione no ma per fortuna nessuno la sta selezionando però sono stimolanti anche le altre tre risposte per vedere ecco più del 90% dice sì sono molto pericolose indipendentemente dalla dalla zona giustissimo ecco quindi a questo punto andiamo alla quarta e ultima domanda di questo sondaggio qual è il settore secondo voi tipico delle mafie al nord e qui ci sono vari settori dalla ristorazione all'edilizia i trasporti la sanità tutti i settori per dire il vero che sono comunque interessati dal crimine organizzato nel nord Italia tutti questi quattro settori però vi chiediamo secondo voi qual è diciamo il prevalente ma è bene ricordare di come tutti questi quattro settori anche in Emilia Romagna siano stati purtroppo contaminati in alcuni casi da fatti di criminalità organizzata che hanno riguardato ciascuno di questi ambiti in modo più o meno ampio con più o meno casi però alcuni casi ecco vi sono stati in tutti questi quattro ambiti ecco anche se prevalentemente come emerge dalle vostre risposte soprattutto nell'ambito dell'edilizia ma anche della ristorazione e dei trasporti l'edilizia comunque prevalente nelle vostre risposte assolutamente prevalente ecco quindi grazie per aver risposto a queste domande quindi in conclusione di questa iniziativa raccoglierei le domande che ci sono facendo quindi poi dare risposte finali e conclusive al procuratore Grattieri e al professore Nicaso darei quindi la parola anche agli studenti più giovani anche delle scuole secondarie di primo grado quindi le scuole medie possiamo partire dalla scuola anche Gandhi e poi abbiamo altre scuole collegate sia scuole medie sia scuole secondarie di secondo grado per proprio le domande finali che raccogliamo in modo sequenziale e a cui poi facciamo fare l'ultimo intervento finale al procuratore Grattieri e al professore Nicaso nel poco tempo che ci rimane prego dalla scuola Gandhi una domanda professore Nicaso ha paura che presto o tardi possa cadere anche lei di finire sotto scorta grazie per la domanda raccogliamo tutte quindi le domande anche la scuola Marconi prego allora mi inquadro massimo ok la mafia è partita dall'essere una banda organizzata che compiva illeciti fino ad arrivare ad essere a ricoprire attraverso il continuo riciclaggio come diceva il dottor Gratteri a rivestire un ruolo chiave nella politica nella società nell'economia la mia domanda rivolta al professor Gratteri era siccome in virtù di questa cosa e anche del fatto che la nuova generazione di mafiosi ha un titolo di studio superiore a quelli dei loro padri i figli dei mafiosi studiano ormai nelle migliori università ricoprono un ruolo chiave nelle industrie nella società fanno parte della classe dirigente non vi è il rischio che il fenomeno mafioso diventi talmente tanto integrato da risultare ormai indistinguibile e invisibile grazie per la domanda andiamo alla domanda dell'altra scuola secondaria di una delle diverse scuole anche secondari di primo grado che ci stanno seguendo con la professoressa Maria di Ciaula che è la scuola Costa di Bologna scuola media prego buongiorno io mi chiamo Lupita e sono una studentessa della seconda della scuola secondaria di primo grado Andrea Costa di Imola e vorrei porre una domanda la nostra domanda è come fa la mafia a catturare l'attenzione dei ragazzi della nostra età noi abbiamo 12 anni grazie mille grazie grazie davvero a voi e a te liceo Fanti di Carpi siete abilitati però se volete porre la domanda sicuramente attivate il vostro video così vi vediamo potete andare per la domanda prego ok buongiorno sono Francesca Flisi del liceo Manfredo Fanti di Carpi noi non possiamo attivare la fotocamera la videocamera quindi parlo direttamente al microfono volevo chiedere si dice che in passato ad esempio nel periodo dei nostri bisnonni la società fosse più solidale allora come mai coincide proprio col periodo di diffusione della mafia dal momento che in questa comunque tende a diffondersi in società comunque meno solide meno coese fra loro benissimo grazie per le vostre domande abbiamo veramente pochissimi minuti perché dobbiamo concludere dopo puntualmente quindi pochissimi minuti a testa in conclusione per rispondere a queste domande procuratore Gratteri professore Nicaso procuratore Gratteri vuole iniziare lei con alcune risposte a queste domande di caso prego prego allora io dico sempre che è normale che esista la paura questa paura esiste in ogni uomo però l'importante è che sia accompagnata dal coraggio e questo ce lo ricordava Paolo Borsellino cioè non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti quindi la paura è legittima e poi visto che due domande fanno riferimento appunto alle origini della mafia vorrei solo fare un piccolo chiarimento lo studente diceva la mafia all'origine era una banda organizzata che compiva dei reati la studentessa chiedeva invece i tempi dei nostri bisnonni c'era una società più solidale allora questo mi porta a ricordarvi una cosa la mafia è un fenomeno di classi dirigenti voi li dovete immaginare come dei vigilantes che ad un certo punto avevano a disposizione la violenza l'hanno utilizzata l'hanno messa a servizio dei potenti che avevano interesse a tutelare i loro privilegi quindi non dobbiamo pensare alla mafia come ad un'organizzazione che anticamente sosteneva e aiutava i poveri contro i ricchi e i deboli contro i forti la mafia è stata creata da dalle classi dirigenti che avevano interesse a mantenere il potere e avevano interesse ad evitare che i contadini potessero organizzarsi potessero ribellarsi potessero protestare potessero poi scioperare e la mafia ha impedito che questo avvenisse perché? perché si sono messi immediatamente dalla parte delle classi dirigenti dei potenti dei potentati fondiari ecco così nasce la mafia e allora se la mafia nasce in questo modo e che poi si affranca perché finisce per scimmiottare tutte le brutte abitudini delle classi dirigenti e diventa sempre più autonoma sempre più fenomeno quasi politico e allora non dobbiamo pensare al vecchio mondo antico come qualcosa di mitico così come ce lo vogliono raccontare i mafiosi ecco la mafia non è mai stata rivoluzionaria è sempre stata reazionaria è sempre stata dalla parte che aveva soldi a potere ecco così nasce la mafia e non dobbiamo immaginarla diversamente il resto è mitologia sono sono miti di fondazione sono tutte cose tutti miti legittimanti che servono a dare un tono a creare un'ascendenza nobile una storia che i mafiosi non hanno direi ottime riflessioni prima di dare la parola al procuratore Grattieri per rispondere vi è anche un questionario di gradimento o meno riguardo a questa iniziativa un questionario che chiediamo ad ogni studentessa e studente non solo alle classi ma se possibile proprio accedendo al link ad ogni studentessa e ad ogni studente sul sito internet appunto dell'associazione cortocircuito perché ci interessa moltissimo il vostro parere su questa iniziativa quindi andando sul link del sito o anche digitando semplicemente su google l'associazione culturale antimafia cortocircuito potete inserire appunto veramente in pochi secondi le vostre risposte alle domande su quanto sia stato per voi interessante questa iniziativa e per degli spunti anche utili per il futuro è appunto in rosso entrando dentro appunto il sito internet prego procuratore Gratteri cosa volete sapere mi sono dimenticato la domanda quali erano le domande che riguardavano me allora c'erano vari vari stimoli appunto in particolare su come praticamente anche le mafie la domanda su come anche si avvicinano ai giovani anche nei nostri territori non solo nel sud Italia ma le mafie si presentano come modelli vincenti come persone brillanti che vestono in modo in modo certe volte anche ricercato che dimostrano di avere soldi potere dimostrano di avere quelli che ad esempio vendono droga nei locali che ovviamente sono il terminale delle mafie chi vende droga nelle discoteche chi vende droga nei night chi vende droga chi si presenta davanti a un pub davanti a un locale con la macchina di lusso luccicante lui firmato si presentano come delle vincenti e sui giovani se non hanno una cultura se non hanno una struttura morale etica che proviene dalla famiglia e poi dalla scuola sono affascinati da questo luccicchio del denaro quindi possono cadere facilmente in queste trappole del guadagno facile o del potere o del successo di avere tutto sempre e pronto allora bisogna stare attenti a queste persone apparentemente brillanti tutti spumeggianti che si presentano come modelli vincenti dove tutto è possibile dove tutto si può fare dove tutto ha un risvolto positivo allora stare attenti a questo luccicchio del denaro e riflettere che la vita è sacrificio e sudore è solo pian piano con lo studio con l'istruzione si può costruire un futuro si può costruire non solo l'indipendenza economica ma anche e soprattutto l'indipendenza psicologica cioè il pensiero e la libertà parole direi molto chiare quindi ringraziamo tantissimo il procuratore Nicola Gratteri il professore Antonio Nicaso per aver trascorso quest'ora e mezzo insieme a noi e concludiamo anche con un video che ci rimanda proprio al tema dell'Emilia Romagna quindi grazie davvero di cuore al procuratore Gratteri e al professore Nicaso però le scuole aspettino un attimo a scollegarsi perché appunto abbiamo una riflessione finale proprio sul tema dell'Emilia Romagna e quindi diamo un saluto davvero e un ringraziamento di cuore e appunto alla prossima occasione e grazie davvero per il vostro prezioso tempo che avete dedicato insomma nonostante i tantissimi e davvero rilevanti impegni grazie professore Nicaso grazie procuratore Gratteri mostriamoli appunto mentre ci salutano grazie grazie davvero ancora di cuore grazie per ciò che fate e davvero buon lavoro continuate così in modo straordinario appassionato e determinante per sperando che ci sia il contributo anche di tante ragazze e tanti ragazzi che vogliono impegnarsi su questi su queste tematiche in modo concreto grazie ancora alla prossima quindi grazie davvero quindi concludendo con una riflessione che riguarda l'Emilia Romagna che è rivolta quindi alle tante scuole partecipanti proprio ultimissimi minuti per far comprendere anche come potersi interessare del tema della comunità organizzata in Emilia Romagna racconto in estrema sintesi dato che diversi docenti di scuole me l'hanno chiesto nelle scorse settimane la piccola esperienza della situazione culturale antimafia cortocircuito di Reggio Emilia che nasce da un gruppo di studenti delle scuole di licei della città di Reggio Emilia desiderosi di comprendere cosa stesse accadendo iniziamo nel 2009 con un giornalino studentesco a Reggio Emilia e poi fondando l'associazione culturale antimafia cortocircuito non ci saremmo mai aspettati allora da semplici studenti del liceo di vedere le nostre inchieste proiettate in tribunale da parte della direzione distrettuale antimafia di Bologna così come poi anche altri materiali sono stati citati altri materiali altre inchieste che come associazione culturale antimafia cortocircuito di Reggio Emilia abbiamo realizzato altri materiali che sono stati utilizzati all'interno di processi come il Maxi Processo Emilia che citava il professore Nicaso che è il più grande processo di mafia del nord Italia che si è celebrato proprio nelle città di Reggio Emilia e Bologna e per numero di imputati in assoluto il più grande processo di mafia del nord Italia alcuni mesi fa nuovamente sono state acquisite agli atti in tribunale delle altre inchieste realizzate dall'associazione culturale antimafia cortocircuito in un nuovo processo giudiziario su richiesta dei magistrati antimafia perché queste nostre inchieste sono state ritenute utili da parte della procura di Bologna e i giudici hanno deciso ancora una volta di acquisire agli atti in tribunale queste nostre inchieste questo è solo un piccolo esempio di ciò che un gruppo di studenti emiliani può fare e che speriamo che sia da stimolo anche per tanti altri parallelamente poi alle numerose inchieste realizzate abbiamo organizzato delle attività di sensibilizzazione sul tema della comunità organizzata realizzando centinaia di eventi pubblici coinvolgendo diverse migliaia di giovani che come noi fossero desiderosi di comprendere cosa stava accadendo in un percorso di conoscenza e confronto collettivo e in questo percorso un paper da sempre fondamentale è stata l'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna il percorso con cittadini in particolare per cui ringrazio davvero ancora molto il dottor Alessandro Criserai lo staff di con cittadini e ora proprio due minuti di un video sulle mafie in Emilia-Romagna un video recentissimo andato in onda su RAI2 che vi consigliamo di vedere in questo modo possiamo anche rispondere ai tanti professori professoresse che hanno chiesto anche di raccontare l'esperienza di cortocircuito però prima non volevo sottrarre tempo ai nostri ospiti il procuratore Gratteri e il professore Nicaso quindi ho preferito dare la precedenza alle domande per loro però siccome sono arrivate tante domande anche rivolte proprio a me quindi cerchiamo in questo modo di dare una risposta in estrema sintesi due minuti grazie ancora e ci vediamo tra due minuti per i saluti finali grazie a tutti